Amici di Monster Hunter Team, buon pomeriggio! Oggi vediamo di catturare qualche siluro, riproviamo sempre più o meno nelle stesse zone, però cerchiamo di insidiarlo più a galla, quindi oggi monterò una boa con innesco di un calamaro, però un'altra comunque verrà montata a fondo, quindi diciamo che fra circa 10 minuti, un quarto d'ora arriverò sullo spot e vediamo un po' di insidiarlo, sperando che non ci siano altre persone che stanno pescando. Comunque ragazzi, vi aggiorno e ci risentiamo dopo. Va bene, a dopo! Allora ragazzi, siamo qui sul luogo e abbiamo posizionato le canne. Un attimo che vi faccio vedere. Allora, ecco la prima posizionata a fondo e come potete vedere la seconda con la boa. Cerchiamo di pescare un poco più in superficie, anche se l'acqua non è altissima, stiamo parlando di, anche se l'apparenza può ingannare, ma stiamo parlando comunque di un metro e mezzo d'acqua. Però cerchiamo di pescare ovviamente vicino alla sponda, così non so se si riesce a vedere il galleggiante. Ecco, quindi vediamo se riusciamo a insidiare qualche stiluro. Diciamo che vorrete stare le big fish della linea F, in questo caso, sembra con il mulinello della linea F e vediamo che succede. Speriamo di prendere qualche stiluro. Ci aggiorniamo più tardi. Speriamo di prendere qualche stiluro. Ci aggiorniamo più tardi.